le gomme che trovano per strada i giapponesi no c'era un non so se hai mai visto taxi, quel film di si taxi vado tipo di loro che vanno a cercare tracci delle gomme giapponesi no 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 quel film è bellissimo boh hacker così scarso si dai che è un miglioramento boh io non l'ho mai fatto sotto le 22 fino a ora grazie ad alessio che hai fatto il 20 oh porco schifo mi ho picchiato del culo se domi tu hai la macchina più facile quella più sporca più rotta, tutta distrutta la tua macchina come hai fatto? a qualche vista ti ricordo che stai parlando con domi stai parlando con un certo franci a fare i demolition derby lui che franci ti porta la macchina cioè addirittura più pulita di quanto era prima della gara te la porta io nelle gare giapponesi sono quello che butta fuori tutti perchè franci quando fa la F2004 a Monza si ferma davanti al traguardo luccica la sua macchina e poi taglia il traguardo bibi addirittura no comunque oggi ho fatto una gara cioè gara tra virgolette F2004 a Monza 30 giri al terzo giro un doppiato ha avuto la bella idea di rompere i coglioni a tutti non solo a me a tutti e ho preso acquittato comunque non vuole dire a questa macchina seguita meglio della BMW di domani il letto non fa esempio oh te ho sfaito attenzione 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 io mi immagino un pilota di aerei parisi attenzione vedete che stiamo atterrando all'aeroporto di Parigi all'ascesa per tutti mi raccomando mi raccomando appena atterro non fate l'applaus che se no le cim di rap non ve le regalo più ora direi inglese però attenzione please non so se avete presente la scena di tifosi bello che il tornante non frena io voglio rivederlo tifosi tifosi no odio odio forse farlo in prima maccia non è stata una buona idea ok basta così